Ciao a tutti dal Co-Potidiana e ben ritrovati. Quindi questo spezzone di video è un post esplorazione, ma lo metterò all'inizio del filmato perché ho dimenticato di farlo prima. Oggi vi porterò in esplorazione di una vecchia masseria. Ci sono passato un sacco di volte davanti ma non ci sono mai entrato. Anzi, una volta ci ho provato insieme ad un'amica, ma dei rumori sinistri mi hanno fatto desistere. E quindi niente, buon proseguimento, buona visione, buona esplorazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.